Siamo con Corrado Giussani, Channel Alliance Manager Southern Europe di GE Digital. Corrado, Predix è il sistema operativo per l'industria nella visione di GE. Ci spieghi di che cosa si tratta? Quindi, come dicevi, Predix è un sistema operativo sviluppato appositamente per sfruttare al meglio le tecnologie internet per il mondo industriale in un ambito critico, qual è quello in cui General Electric si muove. Su questa piattaforma General Electric ha sviluppato diverse soluzioni che vanno da soluzioni rivolte al miglioramento delle performance degli asset a quella del miglioramento delle operation, quindi la realizzazione della fabbrica 4.0 con le soluzioni di Brilliant Manufacturing, le soluzioni di software per l'automazione che è la parte, diciamo, HMI, il livello shop floor del software necessario per queste realizzazioni, il tutto, diciamo, corroborato da un irrobustimento della rete con soluzioni di cyber security delle tecnologie Vurtec. Ecco, a proposito di HMI, nell'ultima release di iFix, che è la vostra soluzione SCADA, GE propone un concetto innovativo di HMI dedicato, o meglio intitolato, Web HMI. Ci spieghi di che cosa consiste? Con questa nuova soluzione stiamo davvero rivoluzionando un po' l'approccio che viene dato alle soluzioni SCADA, non solo per un aspetto tecnologico, per il fatto di utilizzare le tecnologie HTML5, ma soprattutto a quello di, diciamo, rivoluzionare il modo con cui agli operatori vengono presentate le informazioni con un concetto di ECMIA evoluto, come diciamo noi, ad alte prestazioni, dove le informazioni che vengono presentate a video sono aggregate utilizzando e sfruttando al meglio quella che può essere la definizione del modello degli asset, il modello dell'impianto che all'interno del sistema viene gestito. Quindi la modalità con cui l'interfaccia grafica viene realizzata cambia profondamente rispetto al passato, guidando la creazione dell'interfaccia grafica attraverso proprio la definizione degli asset e le informazioni che sono utili da presentare all'operatore in modo diretto con un'unica interfaccia operatore. Senti, ma è vero che bello non sempre vuol dire efficiente in ambito ECMIA? Accidenti, è esattamente così. Quello di cui ci siamo accorti, questo fatto anche attraverso ricerche interne di genere elettriche, abbiamo visto che a volte puntare molto sulla rappresentazione grafica del sinottico non significa efficacia per gli operatori. Quindi l'approccio è proprio quello di rendere un'interfaccia, se vogliamo, più minimalista, ma dove l'organizzazione delle informazioni sia molto più utile per l'operatore e dia più immediatezza, di comprensione di che cosa sta succedendo per essere reattivo in un tempo assolutamente minore.